Giovedì 3 dicembre il Vescovo Armando ha presieduto l'Assemblea Costituente della sezione di Fano del Lucid, l'Unione Cristiana, Imprenditori e Dirigenti, sul tema Impresa, Dottrina Sociale della Chiesa, Etica, Profitto e Responsabilità Sociale. Nel corso dell'Assemblea il Vescovo ha sottolineato l'importanza per le imprese di non traguardare il fatturato a breve termine, ma di investire in attività sostenibili nel tempo, impiegando parte dei profitti nelle relazioni con il territorio, con il tessuto sociale e con tutte le parti interessate dal compito imprenditoriale e professionale svolto. Gli organi sociali eletti in carica per tre anni sono stati Alberto Di Martino, Presidente, Gerardo Coraducci, Giovanni Battista Girolommone, Lucia Capodagli, Vicepresidenti, Gabriele Darpetti, Segretario, Stefano Micioli, Tesoriere, Andrea Biagioni e Giorgio Magnanelli, Consiglieri. Il Collegio Sindacale è composto da Laura Cecconi, Simona Pierleoni, Vincenzo Fusco, Davide Del Vecchio e Leonardo Niti. Il Collegio dei propri viri da Mauro Dell'Erba, Francesco Giacobbi, Giacomo Falcioni, Fabrizio Schiavoni e Lorenzo Campanelli, indicato come consulente ecclesiastico Don Antonio Biagioli.